Mandanti ed esecutori dell'Aguato rimarranno sconosciuti e non è stato possibile neanche accertare la dinamica. Le piste investigative su quanto accaduto il 18 maggio del 2016 hanno raggiunto un vicolo cieco e così è stata decisa l'archiviazione. Due anni fa, una o più persone bloccarono l'auto blindata di Antoci sulla strada che è da Cesaro Porta a San Fratello e vennero sparati alcuni colpi di arma da fuoco. Dietro l'auto dell'ex presidente del Parco dei Nebrodi c'era un'altra vettura con a bordo il dirigente del commissariato di Sant'Agata di Militello, Daniele Manganaro, amico di Antoci, che sparò alcuni colpi di pistola mettendo in fuga gli aggressori. Nell'inchiesta erano finite in tutto 14 persone ma il DNA ottenuto da alcuni mozziconi di sigaretta trovati sul luogo dell'Aguato non ha dato alcuna corrispondenza con quello degli indagati. In alcune intercettazioni, inoltre, gli esponenti mafiosi della zona dei Nebrodi si chiedevano chi avesse potuto sparare contro l'auto di Antoci. In mancanza di riscontri, la procura di Messina nel maggio scorso aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, archiviazione accolta dal GIP. Antoci, durante la presidenza del Parco dei Nebrodi, introdusse un protocollo di legalità sull'affitto dei terreni per evitare che le cosche locali potessero appropriarsi dei fondi europei. Recentemente è stato nominato responsabile legalità del PD e oggi commenta dichiarando che la sola cosa certa venuta fuori dalle indagini è che i responsabili volevano ucciderlo. Speriamo vivamente addetto in un collaboratore di giustizia che possa fare luce e aiutare la magistratura a riaprire l'indagine come spesso accaduto nella storia degli attentati in Sicilia.